Buon pomeriggio a tutti, sono molto contento di salutarvi e di ringraziare gli organizzatori di questo importante forum su un argomento così delicato quale l'economia che stiamo affrontando. Io parlerò di peacekeeping, peacekeeping potrebbe sembrare a qualcuno un argomento che è un po' estraneo al discorso che abbiamo fatto e che abbiamo ascoltato ieri ad oggi, però in realtà non è così, perché cercherò di affrontare questo discorso portando praticamente le mie esperienze personali e cercando di far comprendere come il peacekeeping possa essere anch'esso una manifestazione positiva per raggiungere l'economia positiva. Vedete, il peacekeeping è un'operazione che tutti quanti ormai abbiamo cominciato ad imparare ed è un'operazione che però si sviluppa attraverso momenti diversi, attraverso aspetti diversi. C'è intanto una differenziazione delle varie attività, poi ne parleremo nel dettaglio magari con particolari di rilievo. Però ognuna di queste attività è svolta in presenza di situazioni molto difficili in vari settori, settore sociale, economico, politico. Presenta sempre una opposizione militare asimmetria che rende tutto difficile e poi naturalmente si sviluppa attraverso momenti diversi perché sono momenti che si riferiscono a quelle che sono le esigenze del terreno in quelle attività. Perché dico questo? Perché il peacekeeping è svolto in condizioni estremamente difficili. Io adesso farò vedere delle immagini che possono essere emblematiche a riguardo. Ecco, questa che voi vedete è una poster che io ho preso a Sarajevo nel 1997, che però dà l'idea di quella che era il dramma che viveva quella città, una capitale, negli anni fino al 1995. Ecco, il centro della città, il cuore della città, tutta la città era praticamente circondata, circondata da milizie che costringevano praticamente gli abitanti di Sarajevo a rimanere all'interno della città con difficoltà di sostentamento. Ecco, qui potete immaginare come la vita sociale, la vita economica, lo sviluppo evidentemente di quel paese, ma di quella città venisse limitato. Altre immagini, cambiamo scenario e ci portiamo in Macedonia. Qui troviamo una situazione ugualmente drammatica, migliaia, centinaia di migliaia di uomini, donne, bambini soprattutto che lasciano il Kosovo per raggiungere praticamente la Macedonia da una parte e l'Albania dall'altra, con condizioni veramente disumane. Questa è un'immagine che dà l'idea di che cosa vuol dire in quel momento aiutare, attraverso un'operazione di supporto emanitario, questa moltitudine di gente che si trovava in grande difficoltà. Cambiamo ancora scenario per ricordare anche un altro momento, quello del Kosovo. Il Kosovo è una provincia, una regione sottoposta ad una barbarie in alcune circostanze veramente inumana, con grandi distruzioni. Ecco, e con delle situazioni che io personalmente, ma nessuno di noi, avrebbe mai potuto immaginare di vedere. Queste sono delle chiese ortodosse che naturalmente venivano sistematicamente distrutte da una certa etnia che si opponeva ai serbi. Per arrivare ancora ad un'altra esperienza, quella dell'Afghanistan, un'esperienza anche recente, nel senso che praticamente questo paese dove le etnie sono molto diversificate, vive una situazione, ha vissuto e vive tuttora una situazione terribile. Oltre trent'anni di guerra, sette milioni di rifugiati, sedici milioni di mine come eredità dei conflitti, una situazione difficilissima, una povertà assoluta e una scarsità, come dicevo, di infrastrutture, attività produttive, praticamente nulle. Ma potrei aggiungere anche tante altre voci, potrei ricordare il narcotraffico, che è una piaga che condiziona la vita di quel paese, potrei raccontare la lotta per le risorse idriche, che mette un'etnia contro l'altra e così via. Quindi, ecco, questa è la situazione, il contesto che molto spesso nelle aree di crisi, direi anzi sempre, ecco, si determina. Un contesto con un grandissimo degrado ambientale, con un livello di distruzione assoluto, con le violenze ricorrenti, frequentissime, le uccisioni. Ecco, questo è il quadro di situazione. E in questo quadro, naturalmente, il peacekeeping può svolgere, svolge sicuramente un'attività positiva. Un'attività positiva che inizia, naturalmente, e che cerca di eliminare questi momenti di emergenza, che sono nel settore della sicurezza, in quello dei diritti umani, nei rapporti all'interno delle varie comunità, nei rapporti economici, e proprio nella possibilità di una crescita, di uno sviluppo, anche di un'impostazione di un'economia diversa, che possa dare, che si possa rivolgere, come l'idea dell'economia positiva, si possa rivolgere ai bisogni della gente, ecco, piuttosto che al tornaconto. Ecco, quando avviene, che cosa avviene? Questo è il momento del peacekeeping. Come vedete, l'attività confettuale termina nel momento in cui ci sono degli accordi di pace. E lì inizia questo momento, questo periodo estremamente delicato, il national building, cioè quando bisogna costruire di nuovo una pace, bisogna realizzare le condizioni della convivenza pacifica all'interno del Paese. Talvolta, talvolta, peraltro, bisogna ricordare, lo abbiamo visto, questo termine del conflitto, che segna formalmente la fine dei combattimenti, non è effettivamente rispettato dai contendenti. E quindi si continua a vivere una situazione di grossa emergenza, di grossa emergenza, anche nel momento in cui questo non dovrebbe più accadere. Per esempio il caso del Kosovo, quando nel 1999 i vari contingenti entrarono nel Kosovo, pensavano di entrare in un Paese che fosse ormai pacificato, o quantomeno avesse superato il momento più critico della crisi. In realtà, ecco, nel momento in cui ci trovammo all'interno di quel Paese, ci accorgemmo che così non era, che le violenze continuavano, che le distruzioni si ripetevano. E questo momento, questo momento in cui il peacekeeping deve svilupparsi, praticamente, è quindi molto spesso appesantito da questa instabilità, dalla mancanza di autorità. Ricordo, per esempio, che nei primi giorni del Kosovo, nel primo mese, praticamente, non c'era ancora un'autorità costituita e quindi bisognava, naturalmente, queste organizzazioni militari cercare di risolvere tutti i problemi che andavano, non solo dalla sicurezza della popolazione, ma anche alla pulizia delle città, alla sistemazione delle case. Quindi, una situazione estremamente difficile. Ecco. Allora, in questo punto, arriviamo al ruolo positivo del peacekeeping. Che cosa deve fare il peacekeeping? Qual è il compito? Come può creare quelle condizioni perché l'economia positiva si possa sviluppare? Deve sostenere, intanto, gli sforzi della comunità internazionale per superare le condizioni di crisi e poi deve ricontribuire, e questo è un altro aspetto importante che dobbiamo ricordarci sempre, alla ricostruzione, che è essenziale, e alla sicurezza, sia delle infrastrutture che delle istituzioni. Avviene questo? Avviene sempre. Avviene sempre. E questi sono gli aspetti positivi. Ho parlato già di questo contatto che abbiamo avuto con questa realtà terribile della distruzione dei luoghi di culto. Quindi bisognava controllare, salvaguardare e salvare questi luoghi di culto anche bellissimi. E poi c'era da dare naturalmente anche uno sprone, una spinta al recupero della capacità imprenditoriale, della capacità economica di questi paesi. E qui bisognava mettere insieme tutti gli attori di queste realtà, realtà ormai frammentate, metterli insieme perché praticamente nascesse di nuovo un'idea di sostegno di questa convivenza pacifica che desse poi dei risultati positivi. Poi, naturalmente, la ricostruzione. La ricostruzione è essenziale. La ricostruzione, per esempio, qui vediamo in Afghanistan, diretta proprio ad andare ad aiutare i settori più delicati, come quella dell'istruzione, quindi la ricostruzione delle scuole, o anche, praticamente, sempre per dare sostegno all'economia, lo sviluppo, la realizzazione di infrastrutture, fatte dal nostro PRT, dai nostri Provincial Reconstruction Team, ossia delle strutture, praticamente, inserite nell'ambito di questa operazione di Pischipi che hanno proprio lo scopo di venire incontro alle esigenze della popolazione. Ancora, altre strutture importanti, quindi il potenziamento dell'aeroporto di Herat, che costituisce, sto parlando ancora di Afghanistan, una molla per far rinascere, evidentemente, l'economia. Quindi, è questo, praticamente, lo scopo delle operazioni di Pischipi, quello che le operazioni di Pischipi possono realizzare nelle loro attività. Quindi, l'operazione di stabilizzazione, evidentemente, risolve, anche nell'ambito di questo discorso molto più ampio che noi abbiamo affrontato in queste giornate, qualcosa di positivo. Le operazioni di stabilizzazione e di costruzione sono delle operazioni che consentono di mettere in condizioni quei paesi, quelle aree che noi abbiamo visto così martoriate da situazioni terribili, ecco, di poter vivere con la stabilizzazione un ambiente sicuro. E poi, con la ricostruzione, creare le premesse per lo sviluppo a lungo termine. E qui, naturalmente, che noi abbiamo la possibilità di, come dire, agevolare, di vincere questa sfida dell'economia che vogliamo realizzare. Fermo restando, e questa è una cosa che sottolineo molte volte, che le operazioni di Pischipi non possano essere eterne. Molto spesso, frequentemente, vanno oltre i tempi predeterminati. Sappiamo cosa è accaduto in Kosovo, sappiamo quello che è accaduto in Bosnia, dove nel 1997, quando io ho vissuto questa esperienza, si doveva terminare l'operazione nel 1998. Ancora prosegue tuttora la stessa cosa in Kosovo. In Afghanistan abbiamo interrotto, come ben sapete, l'attività combat sul terreno, ma naturalmente la comunità internazionale continua ad essere presente, proprio per agevolare questo processo difficilissimo di ricostruzione del Paese. Però, alla fine di questa fase, la responsabilità deve ritornare alle autorità locali e alle organizzazioni internazionali. E in questa responsabilità, ecco, c'è lo spazio, e naturalmente mi auguro che questo avvenga, ecco, che questa economia positiva possa essere realizzata, perché, soprattutto, questi Paesi di cui parliamo sono quelli che hanno maggior bisogno di questo tipo di economia. Un'economia, come ci siamo già detti, che faccia e che sia ispirata ai bisogni della gente, piuttosto che al tornaconto. Ecco, naturalmente il peacekeeping è una parte, la sicurezza internazionale è qualcosa che si collega però direttamente con essa. E quindi qui dobbiamo ricordarci anche che ci vuole sempre e dare sempre di più fiducia a quelle organizzazioni internazionali che sono in grado, attraverso una funzione, come dire, di legittimazione, ecco, sono in grado di evitare queste situazioni di crisi che si determinano. Se non si riusciranno ad evitare, evidentemente dovremo, purtroppo, tornare anche nel futuro a svolgere quest'azione di peacekeeping anche in condizioni difficili come quelle che in questi giorni stiamo vivendo. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie.